Ciao, sono Michele Cirillo, Prodo Specialist della linea Andy Surgery di TecnoMed Italia. Ti ringrazio dell'attenzione e prima di presentarti la nostra linea completa vorrei spiegarti perché abbiamo deciso di crearla. Da oltre 25 anni TecnoMed Italia opera nel settore odontoiatrico. Inizialmente come assistenza tecnica, successivamente come importatori e distributori di ricambi dentali per poi fabbricare e commercializzare un riunito standard di fascia alta dal nome Over. Durante questi anni di lavoro, ma soprattutto grazie al contatto con voi medici odontoiatri e con i nostri rivenditori, considerando che noi siamo dei costruttori, è nata la richiesta di allestire negli studi delle sale adibite alla chirurgia. Questo perché? Perché un riunito standard è limitato nello svolgere tutte le funzioni di cui un medico maxilofacciale necessita. La poltrona standard è movimentata da soli due motori, raggiunge un'altezza massima di 80 cm in posizione orizzontale non è perfettamente estesa. Inoltre il gruppo idrico, ma anche la faretra, ne limitano notevolmente quello che è l'accesso alla vostra area di lavoro. Fino a un paio di anni fa chi voleva allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chirurgia maxilofacciale o comunque alla chirurgia in generale non poteva far altro che acquistare un classico carrello operatorio generalmente con molte parti in plastica, una poltrona magari con 3-4 motori che permettesse di avere più movimentazioni rispetto a una classica poltrona standard, l'aspirazione affidata a un bracciettino con il portacannule e la lampada scialittica per illuminare il campo operatorio. Noi, grazie al confronto con i medici, abbiamo ascoltato le esigenze per migliorare la qualità del tuo lavoro quotidiano, realizzando così una linea che risolvesse le problematiche emerse. La prima problematica riguarda proprio una questione di igiene. In effetti, un carrello e una poltrona standard hanno superfici difficili da pulire, con insenature in plastica, che non corrispondono ai requisiti di una sala chirurgica. Seconda cosa, la lampada, la lampada scialittica spesso presenta la necessità di dover creare delle strutture portanti per poterle sorreggerle, in quanto sono molto pesanti. L'arredamento, l'arredamento viene affidato a quello che è un arredo per uno studio dontoiatrico tradizionale, quindi spesso con il lavello all'interno dell'arredo, cosa sconsigliata assolutamente in una sala chirurgica. Infine, l'utilizzo di apparecchiature, un motore da implantologia, il piezo sargeri, con i loro cavi di collegamento elettrico, ma soprattutto con il pedale per la movimentazione, impedisce e intralcia o a volte può confondere il lavoro del medico. Per molti, la sala allestita in questo modo ne limitava l'uso alla chirurgia odontoiatrica standard e ciò rappresentava un ostacolo. Ovviamente tutte queste problematiche erano accettate dal medico perché non c'erano altre soluzioni. Considerando però che gli spazi costano, abbiamo pensato di allestire una sala che riunisca al suo interno più discipline mediche, un vero e proprio poliambulatorio dove sia possibile effettuare la chirurgia maxilofacciale, ma anche l'estetica, prelievi, visite ginecologiche, oculistiche, eccetera, per far lavorare a pieno regime la vostra sala. Allora abbiamo fatto a voi alcune domande. Dottore, mi dica come dovrebbe essere la sala chirurgica dei suoi sogni. Che caratteristiche dovrebbe avere, ma soprattutto cosa non le piace di quello con cui lavora oggi? Ecco come è nata Andy Sargeri. È nata grazie a voi, ai vostri consigli, alle vostre richieste, alle vostre lamentele, ma soprattutto grazie ai vostri sogni. Andy Sargeri, così come suggerisce il nome, è una linea che ha un'impostazione delle apparecchiature facili, a portata di mano, intuitive, senza cavi che possono intracciare il vostro lavoro quotidiano, con molte funzionalità di una poltrona standard, veloce nella pulizia delle superfici. Già, perché come ci insegna la chirurgia ospedaliera, è realizzata interamente in acciaio inox, che è il materiale asettico per eccellenza, ma soprattutto una linea che si adatta a tutti gli scenari medicali. Se vuoi approfondire la conoscenza di tutti gli elementi che compongono la linea Andy Sargeri, cliccando nel link qui sotto, potrai scaricare il libretto dove sono riportate anche le istruzioni per il montaggio. Ti accorgerai che è molto meno complicato che installare un riunito standard. Potrai vedere il catalogo, ma soprattutto avrai la possibilità di configurare l'apparecchiatura online come più desideri. Abbiamo creato un configuratore proprio come quello delle automobili, che ti aiuta e ti suggerisce nella scelta degli optional e degli accessori che fanno parte della sfera chirurgica. Ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo tra poco nel video di approfondimento. Ciao da Michele Cirillo, product specialist della linea Andy Sargeri di TecnoMed Italia.